Pradi! Nel nostro prossimo pezzo si chiama... Pradi! Paura a colazione, tratto da un disco che si chiama Paura a colazione. Pradi! Pradi che ci sia... C'è il pezzo se chiama Paura a colazione e trattata… Porque se chiama Paura a colazione, trattata Serve colazione sono beverageersi chiama Paura a colazione e colomb fenomenati in distancia! Pradi che ci arrabajo, preparare la solaodizzazione... Pradi che ci ero... Grazie a tutti. Grazie a tutti.